Il Vallo di Diano è ben rappresentato e questa volta saprà difendersi da decisioni scellerate. Lo ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale della campagna in merito alle polemiche degli ultimi giorni sollevate dal capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, nell'ambito del progetto dell'alta velocità Salerno-Reggio. Non si ripeta ciò che è accaduto per il Tribunale di Sala Consilina, accorpato a quello di Lago Negro, ha precisato Pellegrino, una decisione di cui la politica dovrebbe vergognarsi. Non ci permettiamo di mettere in discussione necessità e servizi degli altri, ma pretendiamo il rispetto per ciò che legittimamente spetta al nostro territorio. Questo modo di fare non attiene a una politica seria, responsabile e corretta. C'è una valutazione tecnica di rete ferrovie italiane che indica la fermata dell'alta velocità tra Buon Abitacolo e Atena-Lucana. Non ci sono ragioni perché si debba cambiare posizione solo perché qualcuno vorrebbe far prevalere la logica del servizio sotto casa, ignorando le valutazioni tecniche. Probabilmente a qualcuno faceva comodo avere il ballo di Diano debole, privo di rappresentanze. Oggi, invece, difendiamo i diritti di un territorio che troppe volte ha avuto schiaffi che non meritava. Caro consigliere Piro, ti auguro di trascorrere un buon Natale e stai sereno. Conclude il capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale, Tommaso Pellegrino, nella nota stampa.